L'associazione culturale ricreativa Dimensione Vintage, che ha realizzato la bellissima iniziativa alla Corte del Drago nel Castello di Prunetto, ha pensato anche ad una borsa del turismo locale dedicata ai bambini dei 3 agli 11 anni, chiamata 958 Ti Porta Corte, finalizzata a far conoscere il bellissimo Castello di Prunetto. I bambini vi accederanno gratuitamente per tutto il mese di agosto. Buongiorno, sono Gianfranco Santero, presidente della Santero SPA. La nostra azienda ormai è conosciuta in tutta Italia, soprattutto per il 958. A livello locale siamo molto presenti su iniziative, soprattutto rivolte ai giovani, per quanto riguarda lo sport, il tennis, il calcio, la pallavolo, il basket. Abbiamo anche partecipato a questa bellissima iniziativa 958 Ti Porta e soprattutto mirata ai bambini, per far conoscere ai bambini queste bellezze architettoniche che sono presenti nella nostra zona. A nome dell'Associazione Dimensione Vintage voglio ringraziare doverosamente il dottor Gianfranco Santero per aver dimostrato ancora una volta una grande sensibilità nei confronti del territorio. Questa sorta di borsa locale del turismo che gli abbiamo proposto è andata a buon fine e è veramente importante che i bambini iniziano a conoscere per prima cosa le bellezze che hanno dietro casa.